La San Cataldese brinda alla sesta vittoria della stagione nel girone ID Serie D, superando di misura il Cittanova al Valentino Mazzola di San Cataldo. Basta un gol ai Verde Amaranto per chiudere il match. Rete realizzata da Baglione al 42esimo del primo tempo. Un risultato fortemente voluto dall'undici di Pietro Infantino, che adesso può guardare con maggiore serenità al proseguo del campionato. Per quanto dimostrato nelle ultime partite, la San Cataldese può nettamente aspirare a un posto nella zona play-off, che attualmente dista sette lunghezze. I risultati della diciannovesima giornata. San Cataldese-Cittanova 1-0 La classifica Sul campo dell'Oratorio di Marineo, piccolo centro del Palermitano, che conta poco più di 6.000 abitanti, che tra pochi giorni intitolerà il campo sportivo a Biagio Conte. I nisseni hanno l'opportunità di passare in vantaggio su calcio di rigore a 10 minuti dalla fine del primo tempo, ma dagli 11 metri Morales non riesce a superare l'estremo difensore avversario. Nella ripresa i Marinesi guadagnano spazi importanti in avanti e trovano la via per sbloccare il risultato. L'ex biancoscudato Matteo Bisogno assegnare il gol, che decide la partita. In prossimità del triplice fischio finale, il Marineo va vicino al raddoppio. A fine gara comprensibile la soddisfazione della squadra palermitana per i tre punti conquistati, certamente pesanti, in chiave salvezza. Volti scuri in casa Nissa I risultati della diciassettesima giornata Castellammare Enna 1 a 3 Parmonval Leonfortese 1 a 0 Acragas Mazzara 2 a 0 Casteldaccia Sciacca 2 a 1 Profavara Resuttana 2 a 0 Gela Cus Palermo 2 a 1 Oratorio Marineo Nissa 1 a 0 Mazzarese Don Carlo 1 a 1 La classifica Acragas 42 Enna 41 Profavara 37 Don Carlo 33 Mazzara 29 Mazzarese 28 Sciacca 27 Casteldaccia 23 Nissa 22 Oratorio Marineo 18 Castellammare 17 Leonfortese 16 Gela 12 Resuttana e Cus Palermo 11 Parmonval 8 Capitola 13 Coro 11 E' Grazie.